Quella del 28 novembre 1983 fu una sentenza clamorosa che ferì la sensibilità e la coscienza di molti. Non è facile accettare che dei omicidi reconfessi, dei terroristi, nel 1983, ricordo del terrorismo degli anni 70 era ancora molto forte, molto evidente, non è facile accettare che dei reconfessi, dei terroristi vengano scarcerati il giorno stesso della loro condanna. Però così avvenne e avvenne per effetto della legge sui pentiti e dell'interpretazione che quei giudici diedero di quella legge. D'altronde Barbone, uno dei killer del giornalista Walter Tobagi, aveva collaborato dopo l'arresto con gli inquirenti e aveva permesso l'arresto di tutti gli altri componenti del gruppo terroristico che agiva a Milano. E non era stato peraltro il solo a collaborare con la giustizia. Si temeva però, dopo l'interpretazione che i giudici avevano dato della legge sui pentiti, che potessero essere scarcerati allora applicando quello stesso metro anche per esempio dei mafiosi. Quindi insomma la polemica fu molto forte, la ferita era una ferita aperta. A distanza di molto tempo, secondo me però resta da segnalare che quella dell'omicidio Tobagi, oltre che una pagina dolorosa, tragica insomma, della nostra storia, è una pagina che lascia ancora però molta amarezza. Non a caso anche recentemente si è tornato a parlare di quel delitto, di quell'assassinio, perché è ancora molto forte il sospetto e non solo il sospetto, che forse quella morte poteva essere evitata. Se solo le segnalazioni che erano state raccolte dalle forze dell'ordine avessero portato, non so, ad avvertire Tobagi, a pensare anche solo di dargli una scorta o di controllarne insomma i movimenti, forse come è stato detto, ripeto anche in un evento pubblico che si è tenuto qui a Milano a distanza di 38 anni dai fatti, forse Tobagi poteva anche essere salvato. Grazie